l'ultima fase cerchio k attraverso marco a cura di vb guida spirituale questa è l'ultima fase dell'illusione l'ultimo sentire al di là di tutto ciò vi è solo la realtà divina il mondo del sentire successivamente infatti l'entità non ha più scopo di manifestarsi nei mondi della percezione e allora comincia ad evolversi nel mondo del sentire nel mondo della verità nel mondo dei maestri e scopre che tutto questo era sua natura da sempre ma tutto ciò figli e fratelli avviene gradatamente e non bisogna accelerare i tempi però non bisogna neppure ritardare si deve insomma saper ascoltare la voce dell'intimo essere che parla ad ognuno dentro di sé e bisogna lentamente impadronirsi cercandosele dentro di queste consapevolezze perché essere liberi non significa poter fare ciò che si vuole ma significa poter fluire negli altri e per gli altri sempre questo è il senso dell'esistenza e in altre parole il senso che per noi ha e solo questo potrebbe essere il suo senso la divinità questo è l'unico significato che si può dare alla parola libertà madre di coloro che si sentono oppressi e questo è anche il senso che ha l'insegnamento del morire a se stessi e questo è il senso che si può dare alla parola libertà e questo è il senso che si può dare alla parola libertà